Salve a tutti amici di Marcosbox e ben ritrovati in questo appuntamento con 4 chiacchie all'interno del mondo open source Faccio questo video per fare un piccolo, appunto, un piccolo, esporre alcune opinioni personali su quello che sta accadendo nel mondo GNU Linux e in particolare su quello che sta accadendo nel mondo delle varie, dei vari desktop environment che fanno uso delle GTK Stamattina leggevo un post dell'autore delle icone Moka, icone e anche tema, un autore molto bravo, un grafico molto bravo e parlava appunto del fatto che a partire dallo scismo che si è verificato a partire dalla nascita di GNOME 3 ci sono state questo fiorire di vari desktop environment che è basati sulle GTK che ognuno ha sviluppato insieme a distribuzioni abbiamo Unity che è stato sviluppato insieme a Ubuntu Cinnamon che è stato sviluppato insieme a Linux Mint abbiamo Elementari che è nato come set di icone e tema per il GTK che si è evoluto in una distribuzione derivata anche in questo caso da Ubuntu e c'è, è stato fatto notare anche la nascita del progetto Mate che è di fatto il fork di GNOME 2 un ambiente desktop GNOME nella versione 2 che piaceva a tanti e per questo non è andata tanto giù la nascita di questa GNOME 3 che tanto si discosta dal vecchio ambiente comunque, quello che volevo aggiungere io a questa discussione non mi trovo tanto concorde con le conclusioni di Sam perché nel suo post lui conclude che il bello del software libro è il fatto che ci sia la possibilità di far nascere tanti progetti e cose del genere sarà l'età, sarà gli anni appunto di permanenza nella comunità Linux non sempre attivi perché non è che sono un sviluppatore o quant'altro nel mio piccolo mi occupo soltanto di divulgare tutti quanti quei progetti meritevoli nel mondo GNU Linux però, non so, non vedo più tanto di buon occhio questo fiorire di fork sì, in passato pensavo che fosse una cosa positiva perché appunto c'era la possibilità di aprirsi a nuove strade e poi far emergere i migliori l'evoluzione è nella natura umana è nella natura della natura, è proprio l'evoluzione quindi c'è chi si è adatto in un ambiente e chi si è adatto in un altro quello che ha le caratteristiche migliori sopravvive perché ne sono nati anche in passato altri fork altri desktop environment e altre cose che però non hanno avuto vita breve perché appunto non hanno saputo i propri se non hanno saputo adattarsi non avevano una comunità alle spalle pronta a supportarli come dicevo quello che però non mi va più giù col seno di poi con gli anni è che si perda di vista l'obiettivo finale se mai ce ne fosse stato uno perché molti potrebbero obiettare che non c'è mai stato un vero obiettivo finale nella diffusione del mondo Linux un vero uniamoci, facciamo, partiamo e conquistiamo il mondo manca questa capacità, questa visione di insieme questa capacità di concentrarsi sui reali problemi del mondo GNU Linux sui reali punti cardine che dovrebbero essere comuni a tutti quanti le distribuzioni un sistema dei pacchetti che sia uguale per tutti o meglio simile per tutti non di base magari uno può cambiare alcune cosine ma per esempio perché abbiamo sempre abbiamo deb e rpm abbiamo distribuzioni che hanno dei repository particolari gestiti in un'altra maniera ognuno se la vede un po' come cazzo gli pare piace però questo non fa che frammentare frammentare ulteriormente le poche risorse che noi abbiamo come comunità e appunto si perdono di vista i veri obiettivi che è appunto magari fare un gesto dei pacchetti unico magari concentrarsi su un, due, tre desktop environment e portare avanti quello perché tante cose che sono nate appunto da GNOME Shell si sarebbe potuto concentrare gli sforzi per fornire una doppia sessione GNOME Shell e magari una classica sulla falsa riga di di Linux di Cinnamon di Linux Mint alla fine è che ma quello fece all'inizio non fece altro che prendere e introdurre queste queste serie di estensioni che poi vabbè si sono rivolti un vero e proprio forte però appunto magari si poteva unire le forze si poteva dare la possibilità a chi sarà GNOME di avere due tipi di sessioni due tipi di esperienze utente per magari accontentare una fetta di utenza e non costringe poi a superire questa carenza creando miglia e miglia fork miglia e miglia desktop environment che cambiano una virgola magari cambiano un tema cambiano ad esposizione pulsanti cambiano cambiano poco in realtà rispetto rispetto a quello che si poteva fare oppure altri che partono completamente da zero basti pensare che sono elementari vabbè che è un fork che poi a sua volta trae comunque pezzi da GNOME appunto si crea questo tutti questi desktop environment derivati che appunto secondo me non fanno altro che impoverire l'ecosistema GNOME pensiamo a concentrare un pochettino gli sforzi pensiamo a ragionare come gruppo come squadra come team avere un obiettivo fare alcune cose ma farle bene perché torniamo sempre a questo discorso magari tu fai il desktop environment magari lo lasci con 10.000 bug che bisogna fixare che non riesce a fixare non riesce a mantenere e i progetti si tralasciano i bug si accumulano è fatto bene a fare i fork in questo caso beh ne dubito se non riesci a mantenere se non riesci ad avere la possibilità di avere tanti contributori stesso discorso anche per le distribuzioni Linux non faccio nomi altrimenti poi dicono che io sono contro quella distribuzione però ci sono distribuzioni Linux che in effetti alcune che cambiano sulle spalle degli altri e non aggiungono niente se non appunto un pacchetti diversi o un desktop diverso altre distribuzioni che invece vogliono fare da sole però non hanno la capacità di fare da sole quindi sì ognuno è libero di spendere il tempo come vuole però perché non utilizzare quel tuo tempo quelle tue energie per un progetto per aiutare un progetto unico un progetto comune perché a mio avviso il motivo principale è che molti di questi di chi si avvicina e chi sviluppa determinati programmi desktop environment distribuzioni e avere i suoi diciamo così 15 minuti di notorietà o magari diciamo in maniera più ampia avere appunto la sua la sua visibilità questo accade non accade soltanto nel mondo con un linux accade in qualsiasi ambito basti pensare alla politica basti pensare alle associazioni anche umanitarie cioè c'è un fiorire di associazioni umanitarie un fiorire di partito ognuno che si sente in diritto di dire la sua ma non contribuisce a progetti che già ci sono che già hanno alle spalle una storia che già hanno alle spalle una serie di errori che sono stati corretti alcuni che possono essere evitati anche da chi vuole fare tutto da sé vuole partire da zero che se supportati possono fare il bene di tutti ecco perché ultimamente appunto non vedo tanto di buon occhio tutti questi 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 fork queste derivate che nascono per compiacere qualcuno alcuni riescono a campare un paio d'anni altri si arenano subito altri sono in perenne beta sì sì ognuno ripeto ognuno è libero di utilizzare le proprie energie le proprie forze come vuole però dai ragazzi siate onesti potreste alcuni potrebbero mettere da parte loro individualismi e concentrarsi per risolvere i problemi quelli comuni per concentrarsi sui grandi progetti magari cercare di cambiare i grandi progetti direttamente dall'interno faccio l'esempio con gnome magari se il team di gnome avesse avuto al suo interno una folta schiera di utenti che apprezzavano un ambiente diverso rispetto al shell non avremmo avuto quello proprio della sessione classica di gnome shell che è stata fatta rabbattata tanto per accontentare appunto una minoranza che non era in grado comunque di mettere mano al codice magari se uno anziché farsi il suo fork avrebbe contribuito in maniera ottimale all'interno della comunità avrebbe potuto magari influenzarne lo sviluppo e realizzare una sessione classica come si deve sessione classica utile fatta come si deve per accontentare i nostalgici di gnome nuve soltanto ad esempio vabbè ditemi la vostra che cosa ne pensate sull'argomento lunga vita e prosperità a tutti quanti ci vediamo chissà quando al prossimo video ciao ciao ciao